inizia adesso la partita fra i torre d'aquile e bax bologna subito con il tiro di grigio bella la chiusura di parente c'è il tiro di grigio valla per troppo alta parente sede curto che avanza tenta addirittura il tiro sparallato grigio salta un uomo grigio si porta sul sinistro tenta il tiro parente se ne è partito bruni mette la palla in mezzo e la sparallato l'attaccante peccato paolo non sa di caro senza il tiro deviata e c'è la rete fortunata quindi 1 a 0 torretta aquile per dris pancia culto attenzione non tiro ora lo fa e trova la rete del pareggio punto la rete clamorosa di 3s la seconda per lui oggi per 2 a 1 calcio d'angolo battuto attenzione risa fisce il compagno che ne approfitta grigio bella la parata di parente culto questo sul sinistro deve compagno mettono la palla in mezzo si mangia l'occasione del pareggio e l'arbitro fischia la fine della partita 2 a 1 per il torretta aquile grazie a tutti grazie a tutti